Buongiorno signor sindaco, volevo chiederle a nome di tutti i miei compagni e dei futuri bambini che frequenteranno la nostra scuola se sarebbe possibile rendere il nostro cortile, tutto dicemente con solo due alberi, più verde e accogliente per i futuri bambini. Grazie. Federico Arrigoni, da due anni, è uno dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine di Verona. Siamo alla scuola Arnaldo Fraccaroli dell'Istituto Comprensivo 9 Valdonega, dove stamattina la classe quinta ha partecipato all'ultimo appuntamento mensile di quest'anno, svolti sempre online per sicurezza sanitaria. Fanno parte di questa iniziativa in totale 20 scuole primarie, con rappresentanti che pongono domande e richieste, questa mattina in particolare il sindaco Sbuarina, approfondiscono con esperti argomenti utili per sé e la cittadinanza e svolgono lavori in classe con i compagni. Sì, è molto importante, a me piace molto farla, anche perché mi aiuta a capire le cose giuste e le cose sbagliate. È stato un bellissimo anno con il Comune, perché ho imparato molte cose, ho fatto molti amici, ma mi sono piaciuti molto anche i lavori in classe, perché anche i miei amici hanno collaborato con me. È un'esperienza che coinvolge in primis i consiglieri e poi tutta la classe e quest'anno si è parlato di come salvaguardare il verde della città e il patrimonio artistico. Avevamo sempre un lavoro da poter fare insieme, quindi c'è stato l'albero preferito, abbiamo dovuto creare dei disegni, e un'altra attività che è molto piaciuta a tutti, i colori della natura. E quindi qui hanno fatto sempre o dei disegni, oppure hanno anche creato delle poesie. Le mattinate qui si sono sempre svolte all'interno dell'ora di educazione civica, tornata come materia curricolare. È una materia curricolare, quindi insieme ai 12 principi fondamentali dell'educazione civica, qui abbiamo potuto fare educazione ambientale, educazione artistica, insomma, e al sapere conservare il patrimonio artistico della nostra città, che è straordinaria.